Non si fermano le indagini da parte dei carabinieri di Agropoli per capire chi siano stati i responsabili del furto della tomba di Pasquale Piccariello, giovane agropolese che morì nel 2006 in seguito di un incidente stradale. Un'azione mirata e premeditata, visto i malviventi, si pensa a tre persone, agire indisturbati nel cuore della notte di sabato 12 ottobre, rompendo a martellate il marmo della bara ed estraendo il feretro del giovane ventenne. La bara di Pasquale, posizionata al terzo livello, quindi gli autori del gesto hanno utilizzato le impalcature presenti all'interno del Camposanto per portarla via. Inoltre non si riesce a comprendere se davvero la bara sia stata portata all'esterno del Camposanto e dispersa in qualche terreno circostante o sia stata solo spostata in un altro loculo vuoto. Infatti il personale addetto verificherà nelle prossime ore se nei loculi vuoti ci sia il feretro di Pasquale. Dai familiari fanno sapere inoltre che nulla è riconducibile all'episodio che è accaduto la scorsa settimana in località Moio quando la compagna della sorella di Pasquale, dopo una lite, gettò il loro cagnolino dal terzo piano. Insomma gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per risalire ai responsabili dell'orribile gesto e assicurarli alla giustizia.